ciao gian pierre eccoci qui anche noi siamo usciti dall'atto che è andato credo tutto bene vero si è andato tutto bene direi che mi sono trovato di fronte a qualcuno che veramente ama il suo lavoro complimenti grazie si è soddisfatto di come è andato il lavoro fatto una precisione una precisione direi svizzera tenendo conto che che l'acquirente viene dalla svizzera veramente un professionista ti ringrazio di questi complimenti che porto con me li porto nel cuore a prescindere dal buon esito dell'operazione mi fanno mi fanno sempre molto molto piacere anche per te può essere un una conferma quindi un promosso assolutamente ti ringrazio tanti auguri anche per la vendita ciao 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 ciao